In questo video vedremo le lenti convergenti. Impareremo a conoscere le lenti convergenti. La prima in questo schema è la lente biconvessa. Entrambe le facce della lente sono biconvesse, entrambe superfici. La seconda lente è una piano convessa e la terza è un menisco positivo. Il menisco positivo si riconosce perché la parte centrale è più spessa rispetto a quella laterale. Bene, incominciamo con la biconvessa. Questa è la lente biconvessa che stiamo indicando con la penna, questa è una piano convessa, sono lenti classiche, e questo è il menisco positivo. Come vi dicevo è più abbondante e più spessa la parte centrale rispetto ai bordi per quanto riguarda il menisco positivo. Qui vediamo una lente, lenti convergenti sono tutte le lenti che ingrandiscono. Vedete questa lente sta ingrandendo e poi vi faccio vedere il bordo. Questa è una biconvessa, quindi due facce uguali a una lente biconvessa. Grazie per l'attenzione, vi aspettiamo per il prossimo video. Grazie per l'attenzione, vi faccio vedere il video. Grazie. Grazie.